Si incontreranno domani Katia Tarasconi e Stefano Cugini. L'appuntamento è fissato per un caffè. La ragione? Capire, come aveva preannunciato la consigliera regionale subito dopo l'investitura, se esistano ancora le basi per una riunificazione dell'intera coalizione di centro-sinistra già al primo turno. Una prova di dialogo allo stato complessa tra il centro-sinistra dei partiti e quella di alternativa per Piacenza. Le parole di Cugini sembrano infatti escludere che tale scenario possa concretizzarsi, almeno appunto in una prima fase. Confrontarsi è sempre cosa buona e giusta, aveva detto. Far finta che non sia successo nulla e tornare come niente fosse su passi ponderati e coraggiosi non può essere all'ordine del giorno, così a schiocco di dita. Un incontro di cortesia parrebbe tra due amici ed ex compagni di partito, anche perché ricontattato. Cugini ha aggiunto abbiamo in comune l'avversario che alla destra di Patrizia Barbieri. Se ci sarà consapevolezza, almeno su questo, vedremo giorno dopo giorno se e cosa ci riserverà il futuro. In altre parole, se ne riparlerà in un eventuale ballottaggio. Alternativa per Piacenza va avanti per la sua strada e infatti ieri ha iniziato il suo tour, zaino in spalla, in città. Partito da Roncaglia, dove in serata si è tenuta la prima assemblea pubblica con i cittadini con l'obiettivo di raccogliere le loro istanze. Grazie a tutti.